o vandali e vandalazzi porco dio la madonna di cristo stasera ragazzi sto incazzata nera e ce n'è per tutti allora prima per primo sono incazzata per dei motivi ben precisi e in più sono molto triste perché è morto il padre di un mio amico caro e stasera quando sono andata lì a la camera mortuaria mi sono resa conto ancora di più perché ogni volta che si va in una circostanza del genere ti rendi conto a vandaliz che non siamo un cavolo di nessuno siamo persone di passaggio siamo persone che ci facciamo del male gratuitamente senza vandali pensare e quindi poi ci ritroviamo in una cassa a non sentire più nulla a morire d'improvviso questo signore nel giro di una settimana di una settimana è morto poverino aveva dei problemi polmonari e non ce l'ha fatta io sono molto addolorata per questo perché cioè quando succedono queste cose perché la morte non è che la pensiamo sempre però quando succedono queste cose ci fanno veramente rendere conto che non siamo un cavolo di nessuno quindi tutto questo accanimento tutto questa cattiveria tutta questa cattiveria tutte queste ingiurie io le vedo altamente in questi momenti li vedo molto molto più amplificati allora io volevo partire da instagram io sono stata sempre una persona a cui è piaciuto essere fotografata ma mi è venuto il ticchio di fare così mi sto sgangherando mi è piaciuto essere sempre fotografata mi è piaciuto vivere la mia vita a 360 gradi non capisco non capisco perché oggi che sono diventato un personaggio più esposto non diciamo pubblico perché non so nessuno più esposto io non mi posso permettere di fare una foto al mare anche coprendomi il seno e pubblicarla c'è le parole in ire che cosa stai dimostrando di avere la sindrome turretta allora io vi spiego una cosa e questo sia ben chiaro perché mi sono rotta veramente le balle perché da oggi in poi incomincio a rispondere male a tutti perché dopo 44 mila non gatti 44 mila persone che vedono i miei video da nove mesi e nove mesi che io sto su questo sito mettendoci la faccia a bogodaus e prendendomi le parole prendendomi le ingiurie mi sono rotte le palle cioè sono andata da magalli che poi giustamente lì non è che vai così perché comunque ci può andare tutti alla rai ti chiedono delle certificazioni quindi c'era il professor porta sono andata a fare primo appuntamento cioè se vai in televisione non è che ci può andare chiunque ma non perché io sia brava non ci può andare chiunque a dire le stupidaggini perché comunque loro si informano prima allora a vada a prescindere per chi creda o non creda ci smettetela con questi commenti del cazzo ma signora quando tu fai il video il tic non ce l'hai ma chi te l'ha detto ma oppure quando fai la foto il tic non ce l'hai ho fatto molte foto oppure quando col micro l'ho detto così ho fatto delle foto è chiaro se faccio una foto non mi esce perché la foto comunque istantanea cioè ci arriva il cervello bagato ci arriva poi altra cosa non vedo perché tutti debbano dire vergognati che cosa stai portando come cioè io sto prendendo in mano una battaglia una informazione ma non è che tutto quello che faccio deve essere collegato all'informazione dalla sindrome turrette io prima di tutto sono una donna sono una persona io ho la sindrome turrette perché non me la sono scelta ma la sindrome turrette non a me quindi io reagisco invece di dire brava sabrina ti diverti nonostante tutto hai questo peso addosso ti diverti giri fai lai 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 no ma faccio una foto sei volgare ma perché avete visto ma è me una foto nuda oppure una foto volgare ma lo sapete la volgarità che cos'è ma voi le vedete le foto che girano su internet volgari porco di capelli down visto che voi siete tanto bravi a classificare a giudicare sapete riconoscere una foto volgare è una foto normale o una foto tranquilla giustamente se io mi mettessi in una posizione volgarissima è chiaro che anche io non lo farei perché comunque ho una certa dignità ma poi anche dire tuo figlio cosa ne pensa ma mio figlio che ne deve pensare mio figlio è contento che io mi diverta chiaramente se mio figlio mi vede in un'orgia dice ma ma che cazzi miss su instagram a bocodaus perché comunque è una cosa un po scena giusto ma se mio figlio mi vede wonderful tonight al mare senza reggiseno che ormai ci vanno tutti tutti anche le migliori mogli le migliori mamme che si sentono tanto a bocodaus tanto brave che vanno a fare la spesa col carrellino che poi all'amica gli chiede ma com'è andata ieri con quello che può mettere con le marite totale o mariti alle mogli e stanno a giudicare me cioè in topless se tu ti metti le mani qua non è volgare ragazzi cioè ma un po di cervelletto ma come come le vedete queste cose allora siete voi volgari perché siete voi le persone ignoranti perché ignorare cioè o bigotte o stupidine perché comunque nel 2019 una persona che si fa una foto senza reggiseno mettendosi le mani qua addirittura io ho postato una foto con mio figlio lì il delirio avvondalo il delirio mio figlio era piccolino e stava appoggiato qui una foto stupenda qui alla mia schiena e io ho fatto una un l'ho pubblicata me ne hanno dette di tutti i colori non ti vergogni a mettere quella foto ma una foto così tenera cioè allora io mi domando e dicono avvandali se voi perché tanto so che continuerete io mi stancherò non mi stancherò mai di parlare di dire perché questo è il mio impegno per la vita però io ci io ci insisto e dico ragazzi come ho detto una volta non galleggiamo sopra le acque andiamo a fondo perché sulle acque ci galleggiano gli stronzi e se voi siete tali io non vi posso fare niente il problema è vostro se voi volete entrare in questo canale non per dire ma io ci credo non ci credo cioè se ci gridi ebbene se no togliti oppure chiedimi spiegazioni in un modo adeguato perché veramente state diventando deliranti stupidi non costruttivi perché se il discorso è costruttivo io vi rispondo se no vi banno o vi mando a quel paese a poco daus poi non dite che io vi tratto come meritate perché come mi sono e si dice in questo paese t'abballo perché sentirmi dire che sono volgare cioè voi le siete visti mai le foto sul web volgare ma chiedetele ai vostri mariti oppure vedetele voi che forse le fate voi poi se una persona diventa virale oppure diventa pubblica e vi rode ragazzi prendetevi un canale portate i vostri argomenti a poco daus e vedete che siete capaci di fare cioè non rompete le scatole una persona che già soffre di suo e che comunque da dieci mesi nove mesi si sta impegnando per fare qualcosa per la società e per i ragazzi turrettiani che a me mi scrivono mi dicono sabrina mi fa il piacere che tu mi hai insegnato questo mi hai imparato mi hai insegnato a uscire fuori dal ghetto della mia solitudine questo è importante questa stima quello che dite voi io ho risposto in un video non ci ritorno più da oggi in poi quelli che scrivono le volgarità oppure le stupidaggini mi prometto di non prendermela più perché io comunque della mia vita ne faccio quello che voglio perché non è che ogni volta che io esco indo 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 e vado in un ristorante o a fare il mio karaoke o a fare la mia cena o a fare quello che cavolo mi pare io sto portando la sindrome turrettice io la porto perché facci tic però non è che devo portare per forza un messaggio quando faccio i video porto un messaggio guardate più video invece delle fotografie capite bene quello che una persona vi vuole comunicare perché credo che sono un'ottima comunicatrice questo me lo devo riconoscere e me lo voglio riconoscere quindi su instagram ci sono una marea di bambini di anche di bambini di bambinoni perché comunque parlare così a poco da o se dire di una volgarità a me c'è proprio cioè mi fate ridere mi fate ridere e più che ridere mi fate preoccupare di questo mondo che sta andando avanti con il giudizio c'è il giudizio è la cosa più brutta che c'è perché se io mi io quando guardo una foto di una persona che comunque ha una certa ehm appunto daus per dire no una che tipo il la ribrasi che che porta le iene che fa dei discorsi seri sulle iene interviste tutto quanto poi va alle canarie e si mette nuda in indigma prima i fatti anni scorsi seri poi ti mette nuda ma che cazzo me ne frega c'è una persona può fare quello che vuole chiaramente io non è che vi ho parlato del libro non se ne ha fregato nessuno questo qua io ho anche scritto un libro è andato fuori fuoco oh non potevo giocare a nascondino perché qualcuno non mi dice fammi sapere che cosa ci scrivi a poco daus le sofferenze che ho provato qui tutto quello che è passato no questo no e scherzi no devono vedere la foto per dire guarda questa io prima ti stimavo ma non ti stimo più e sti cavoli cioè non è che a me i numeri mi servono a me mi servono pochi ma buoni quelle persone che capiscono quello che uno sta a fare al di là dell'immagine che uno può dare perché non è che io vado giro nuda oppure faccio chissà che ma pure se li facesse ma sti cavoli io sono una persona come voi a poco daus che a differenza vostra ho la sindrome ma io vivo come voi faccio quello che fate voi faccio tutto non devo andare con la camicia di forza non devo andare con la flebba attaccata non devo andare sulla sedia a rotelle sono una persona che ha preso consapevolezza grazie a dio della sua sindrome e vive la vita prima la vivevo l'ho sempre vissuta così oggi che purtroppo sono ma questa non è una giustificazione uno sfogo oggi che sono diventata più pubblica cioè che dovesse fame tenesse a mette uscite da suore che la cravattina il 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 baveretto e fare le conferenzine no io sono una persona a cucine quello che vedete faccio quindi se non vi piace non mi vedete più perché ha 44 mila persone cioè non è che mi servono le persone che mi ingiuriano poche ma buone poche ma buone cancellatevi capito se non mi non riuscite a capire a poco daus che io ho questa sindrome non me ne frega niente perché tanto io ce l'ho tu non ce l'hai ce l'ho io e non potete costringermi di avere oltre che avere la sindrome turrette farmi incatenare dalla sindrome turrette oppure essere una persona che vive da malata io sono una persona normale ok ciao a tutti